ciao ragazzi come stai spero bene noi siamo pronti ad iniziare una nuova settimana ma prima che inizio a spiegarti questo workout di oggi voglio dirti una cosa importante oggi sul mio canale il coach ti segue nella sezione il coach ti spiega ci sarà un video importante ti insegnerò ad utilizzare la corda quindi se questo è il tuo obiettivo vieni stasera alle ore 21 vedrai sarà un video molto interessante e imparerai veramente ad utilizzare la corda quindi ragazzi vediamo oggi questo warm up questo riscaldamento che prima ci porta a fare i nostri soliti esercizi e poi vediamo un nuovo esercizio handstand keep up quindi è una professione per imparare la verticale ti interessa quindi prosegui e noi ci vediamo alla forza ciao 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 ed eccoci qui alla forza noi come al solito nella nostra programmazione inseriamo sempre la forza l'importanza della forza la conosci se per casa hai qualche domanda mi scrivi sotto quindi occhio bene alla sequenza e ci vediamo al workout ciao ed eccoci qui al workout ragazzi oggi noi proveremo a fare cinque giri ogni 90 secondi proveremo a fare 200 metri dopo di che faremo il massimo delle ripetizioni possibili degli affondi disco alle mani che prova a non mollare per qualsiasi domanda lo sai mi scrivi sotto se puoi iscriviti al canale a massimo lascia un mi piace noi ci vediamo domani ciao 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 ciao